Diciamo che allora viaggiare è stato fatto parte proprio della mia vita perché quando ero atleta per 15 anni ho girato un po' il mondo, però sempre diciamo in località di montagna, soprattutto d'inverno, tranne quando facevo le trasferte in Sud America d'estate che l'aera inverno e perciò è rimasta nella mia, è una mia passione quella di viaggiare e di visitare i luoghi. Ci sono stata un'emozione di sapere che è un'emozione, è anche un motivo d'orgoglio e di essere assieme a questi grandi atleti, ex atleti e persone leggende del mondo dello sport, appunto mi riempie d'orgoglio e soprattutto poi fa essere un'occasione di un'augurazione così per un rilancio anche della compagnia e del nome dell'Italia nel mondo, un po' come abbiamo fatto noi in passato, nei vari periodi, questo anche speriamo che faccia bene alla compagnia e all'Italia in generale. Grazie.